Salve a tutti ragazzi e bentornati dopo mesi con una top sul mio canale e come ricominciare se non con il re delle top il mitico Luke ciao ragazzi benvenuti in questa top in quella collaborazione con Giova mamma mia finalmente una bella top ed eccoci qua finalmente in una cop con Luke cosa tratterà questa top 5 beh ragazzi abbiamo trattato le pre-evoluzioni, l'evoluzione quindi perché non fare anche la mega evoluzione ci siamo chiesti e perché non fare la collaborazione e quindi ragazzi eccoci qua con ben appunto due top, una sul canale di Giova e una sul mio canale perché le mega belle sono troppe, sono troppe quindi non si può fare una top 5 abbiamo detto vabbè dividiamola in due canali quindi signori miei qua sotto troverete il link del video di Luke mi raccomando passate perché lui è la legend la legend quindi in quanto tale potrà passare poche parole esattamente e niente noi vi lasciamo alla top spero che vi possa piacere e quindi un saluto da Rochett un saluto ragazzi alla prossima top al quinto post ragazzi troviamo questo fantastico veramente molto molto bello mega Weavile quindi complimenti al disegnatore per questa bellissima opera ragazzi Weavile nelle tutte le evoluzioni che sono state fatte in quarta generazione sicuramente è uno di quelli che mi piace di più ragazzi ha dato un senso ad un Pokémon inutile di seconda generazione come Snizzle che veramente ragazzi prima non serviva assolutamente a niente e nessuno se lo filava ma adesso ragazzi con Weavile veramente quel Pokémon ha un senso e Weavile si merita secondo me una bellissima mega evoluzione guardate ragazzi quanto è cazzuto con quegli artiglie che sguardo malefico che ha veramente nonostante abbia delle bassissime difese ragazzi Weavile si merita comunque appunto questa mega evoluzione secondo me verrebbe bellissima renderebbe veramente tantissimo nel prossimo gioco c'è Pokémon Story e Pokémon Luna perché appunto questo top si riferisce a quei giochi e quindi ragazzi io sinceramente la farei di corsa quindi spero che anche la Game Freak ragazzi mi stia leggendo nel pensiero e quindi la faccia ed alizzi il mio sogno Personalmente uno dei Pokémon che odio più in assoluto è Keckleon anche se obiettivamente una mega evoluzione potrebbe farmelo rivalutare abbastanza ecco sarebbe proprio il caso di questa fantastica evoluzione che rende appunto Keckleon decisamente più apprezzabile rispetto a ciò che è ora come ora ossia un aborto ovviamente risolleverebbe di molto le sorti di questo Pokémon più che mai sfrattato e recluso nella sempre più larga cerchia degli aborti le sue forme sono state addolcite in modo che ora sembra decisamente più un camaleonte rispetto a prima se quello di prima potesse essere classificato come assomigliante a qualcosa e diciamo che il suo stile ricorda personalmente mi ricorda vagamente uno Sheptile e sì probabilmente è per questo che mi piace così tanto al terzo posto ragazzi invece troviamo questo fantastico secondo me Mega Dragonite ragazzi veramente Dragonite è uno dei quei Pokémon a cui dare subito la mega evoluzione l'unico problema come tutti saprete ragazzi è come la chiamiamo poi la mega pietra di Dragonite questa è una bella domanda veramente perché sinceramente non lo so come si potrebbe chiamare sicuramente quelli della Game Freak si inventeranno qualcosa di malefico e riusciranno sicuramente a sorprenderci ma comunque sì ragazzi questa mega evoluzione è veramente cioè molto molto bella non cambia tanto il livello di design perché comunque Dragonite è sempre quello magari è un pochino più possiamo dire più minuto più piccolo rispetto a Dragonite originale poi c'è quella specie di perla sulla corda ragazzi che sinceramente mi ricorda molto la sua pre-evoluzione Dragonite che aveva mi pare la perla sul collo se non dico cavolate e comunque sia poi vabbè le hai insomma leggermente diverse con quella specie di verde acqua le antenne che mi pare aveva già ma qua sono nettamente più lunghe e niente ragazzi diciamo che io lo adoro ho trovato veramente tantissime mega evoluzioni di Dragonite sul web ed è stato veramente molto difficile scegliere veramente ragazzi non è stato fatto semplice però alla fine ho deciso di proporvi questa qua ragazzi e spero che piaccia anche a voi comunque come posizione bonus ho pensato di inserire Solrock dato che siccome stiamo parlando di Pokémon Sun e Moon beh diciamo che c'è zecca in pieno e poi cazzo finalmente Solrock di tipo fuoco cioè io mi sono sempre chiesto come fa un sole a non essere di tipo fuoco e veramente ringrazio il designer di questo spettacolo che mi ha finalmente accontentato era anche ora direi e veramente questa mega da Solrock un'utilità che finora è stata più che mai inutile e lo migliora anche esteticamente cioè voglio dire guardate quelle crepe sulla sua fra tante virgolette faccia dove scorre del magma liquido voglio dire danno un effetto fantastico a mio avviso coronate poi tra l'altro dagli occhi che sono stati resi molto più aggressivi e che tolgono a Solrock quell'espressione odiosa da cammello in Lapponia che si ritrovava Scoliped è il mio Pokémon di quinta generazione preferito ma se la Game Freak dovesse fare veramente una mega come questa cioè potrebbe tranquillamente entrare nella top 5 dei miei Pokémon preferiti secondo me il bello di questa mega evoluzione è che prende Scoliped senza cambiarne troppo l'aspetto ma aggiungendo invece dei dettagli che lo rendono ancora più aggressivo di prima innanzitutto si alza su due zampe ma al contempo mantiene quella forma da bruco se così si può dire mentre quei piccoli spuntoni che possedeva in precedenza sono diventati degli artigli affilatissimi che ricordano vagamente quelli di Ghiratina inoltre così come per Solrock gli occhi sono stati incattiviti e resi più aggressivi e tutto ciò lo colloca di diritto al secondo posto e al primo posto ragazzi troviamo questo fantastico e maestuoso Mega Milotic ragazzi secondo me secondo la mia modesta opinione Milotic è uno di quei Pokémon che proprio si meriterebbe subito una mega evoluzione infatti mi stupisce che non ne abbia già una ma comunque se ragazzi dopo l'uscita del remake ovvero Pokémon Rubinome che Zaffero Alpha secondo me è uno dei più quotati per ottenere i prossimi giochi ovvero Pokémon Sole e Pokémon Luna guardatelo guardatelo ragazzi già Milotic normale è bellissimo guardate come l'hanno reso veramente complimenti al disegnatore ragazzi è stato fatto veramente benissimo ma comunque anche per quanto riguarda Milotic ragazzi di mega evoluzioni in giro per il web se ne trovo veramente tantissime addirittura se non sbaglio avevano fatto addirittura una mod in cui si poteva ottenere la mega evoluzione di Milotic nei remake appunto Rubinome che Zaffero Alpha ma questa è una mod particolare e quindi non ci interessa in questo video ma comunque ragazzi come vi dicevo con quelle pinde con quei colori immaginatevi questa forma come shiny veramente ragazzi un Pokémon stupendo che secondo me ragazzi nei prossimi giochi finalmente avrà la sua gognata mega evoluzione ok signori miei questa top termina qua noi speriamo che vi sia piaciuto se così vi invitiamo a lasciare un bel like e iscriversi ad entrambi i canali esatto passate esattamente vi ricordo che qua in descrizione ci sarà il video di Luke e niente noi ci becchiamo nella prossima top in collaborazione con Rochat e quindi non ti resta che dire bye bye ragazzi alla prossima grazie a tutti